Assessore, partirà domani sera questo nuovo progetto di prevenzione, dove si svolgerà e a chi è rivolto? Sì, è un progetto di prevenzione e illustreremo ai cittadini il piano di protezione civile che il Comune di Fanno ha redatto e come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, andando al Vallato, andando a Cucurano, andando insomma a illustrarlo nei quartieri, quest'anno, visto e considerato anche quello che è successo a Cantiano recentemente con le esondazioni dei torrenti, abbiamo deciso di spiegarlo ai residenti del quartiere Arzilla e di Gimarra. Dunque lo faremo domani sera presso la sala civica di Gimarra, dove appunto alle ore 21 i tecnici comunali, insieme a me, insieme ai volontari della protezione civile, in particolare del Cibiclub Mattei, illustreranno quali sono i comportamenti da tenere durante un evento di protezione civile, quindi ad esempio l'allagamento, oppure il terremoto, oppure altri eventi che potrebbero succedere, che potrebbero essere, come dire, pericolosi per le persone, però ecco quest'anno abbiamo dedicato appunto all'esondazione del torrente Arzilla una speciale attenzione, per questo abbiamo invitato anche il sindaco di Cantiano. E quindi ecco, crediamo che sia un momento per confrontarsi con la popolazione, per spiegare i comportamenti, per dire cosa prevede il piano e insomma per vivere anche, come dire, tutti gli eventi in maniera più tranquilla, almeno consapevole. Quante sono le persone coinvolte? All'incirca sono un migliaio le persone a cui abbiamo invitato un invito appunto a partecipare, e sono fondamentalmente concentrate nel quartiere vicino alla ferrovia, vicino all'Arzilla, il quartiere dell'Arzilla appunto, e anche quella zona che si trova nel sottopasso autostradale a Centinarola. Domenica 6 novembre un altro appuntamento importante perché ci sarà una vera e propria esercitazione. Sì, diciamo un'esercitazione. Per quello che competta il volontariato, di norma, quando arriva un'allerta il Comune di Fano apre il COC e quindi avvisa i volontari di partire per un monitoraggio. In questo caso domenica simuleremo che il Torrente Arzilla, in pratica l'acqua, supera i livelli. A questo punto spiegheremo sia domenica sia anche domani sera quali sono i punti di attesa esattamente, dove si deve portare la popolazione, dove troverà un volontario piuttosto che una forza dell'ordine a dargli le indicazioni giuste, se poi, se la cosa è importante, verranno portate nelle aree in pratica di ammassamento e quant'altro. Noi faremo questo in pratica, andremo direttamente sul posto ad avvisare la cittadinanza domenica che deve abbandonare in pratica le proprie case e deve portarsi esattamente in quella zona. Questo è un po' il nostro compito del volontariato. Lo vediamo evidenziato anche nello studio che è stato eseguito. Quali sono i punti più a rischio? I punti più a rischio sono quelli evidenziati in pratica in blu, che sono quelli dove l'acqua, in casi eccezionali, dove arriva l'acqua. Quindi qui all'interno, come diceva l'assessore, ci sono un migliaio di persone che vanno comunque evacuate, che vanno avvisate. Come è successo un po' nel 97 del fiume Metauro, siamo passati con gli autoparlanti, siamo andati casa per casa perché avevamo un fontanazzo dall'altra parte, uno zampillo d'acqua e quindi si prevedeva la rottura dell'argine. In quel caso abbiamo avvisato tutta la popolazione di abbandonare le proprie case e qui faremo la stessa identica cosa, specialmente in queste aree dove è già previsto l'induzione. Qui siamo sicuri che se l'acqua sarà tanta arriva.